Esiste una differenza di significato fra l'uso della parte destra del corpo e la parte sinistra? Scopriamole insieme! Sono Maddalena e tu sei su Adamas Carisma per tutti, il canale giusto per imparare ad ottenere tutto ciò che vuoi. Iscriviti subito al mio canale e clicca sulla campanellina per non perdere i miei video che pubblicherò ogni lunedì e venerdì alle 13.00 e ricordati di lasciarmi un like! È molto affascinante studiare il significato del linguaggio del corpo e troverai numerosissimi video riguardo questo argomento nell'apposita playlist, ti invito ad andare a guardarla. Potremmo però fare una magra distinzione di significati fra l'uso della parte destra e dalla parte sinistra, dando così sfumature interpretative differenti ad ogni singolo gesto. L'emisfero sinistro del nostro cervello comanda la parte destra del nostro corpo e l'emisfero destro comanda la parte sinistra del nostro corpo. Una persona destorsa ha quindi come emisfero dominante quello sinistro, mentre una mancina ha quello destro. Nell'ultimo mezzo secolo, da quando si è imparato ad avere più rispetto della predisposizione alla nascita di ogni singolo bambino e non si è costretto più i mancini ad usare la destra, si è alzata la percentuale delle persone mancine sino ad arrivare al 15%. Le spiegazioni che ti darò valgono per ridestrorsi. Tieni presente che per i mancini vale l'esatto contrario. I due emisferi hanno funzioni molto differenti e semplificando si potrebbe affermare che l'emisfero sinistro è quello in cui hanno sede l'intelletto e la logica, la razionalità ed i centri del linguaggio, mentre l'emisfero destro si dedica ai sentimenti, alle emozioni, è la sede della creatività ed è la capacità empatica. Osservando i gesti ed i movimenti del corpo di un individuo si possono cogliere le sue predisposizioni, che possono essere orientate più alla logica o più all'emotività. Ad esempio, quando conversiamo in piedi con qualcuno, sia noi che il nostro interlocutore tendiamo a scaricare tutto il peso del corpo su una sola gamba, sbilanciandoci. Senza accorgerci, accentuiamo il peso sul piede destro quando stiamo privilegiando un pensiero logico ed una gira razionale. Mentre ci appoggiamo sulla parte sinistra quando stiamo seguendo la parte emotiva, intuitiva e creativa. Tutti noi, quando parliamo in posizione retta, a seconda degli argomenti e delle nostre reazioni istintive, oscilliamo con il peso fra la parte destra e la parte sinistra. Molte volte! Ma osservando con attenzione e a lungo una persona, ed in più occasioni, possiamo notare quale sia la parte sulla quale scarica più frequentemente il peso. In questo modo potremmo dedurre se ha più una propensione verso la logica o verso l'emotività. È un qualcosa di innato! Un genitore, ad esempio, già in tà pre-scolare potrebbe scoprire se il proprio figlio ha più una predisposizione verso la logica o verso la creatività. La stessa cosa vale per la gestualità. Quindi osservare come gesticola prevalentemente una persona durante le conversazioni, se utilizzando di più la parte destra e la parte sinistra, ci rivelerà utili indizi. Una persona che abbia una mano destra particolarmente attiva rivela il proprio piacere ad agire, mentre se muove di più la sinistra significa che è più focalizzato sul proprio sentire e quello degli altri. Queste informazioni potrebbero rivelarsi particolarmente utili, ad esempio, durante la selezione del personale. Esistono professioni più mirate alla tecnica ed alla logica, altre più alla creatività. Dunque, osservando il modo di muoversi, si riuscirà ad individuare meglio i lavoratori più adatti a ricoprire certi ruoli, perché hanno innate certe predisposizioni al di là delle loro competenze specifiche. Una curiosità! Esiste un semplicissimo test da fare per scoprire quale predisposizione nata abbia una persona. Congiungere le mani ed incrociare le dita in questo modo. Controlla quale dei pollici sia dominante, quindi quale si trova più in alto rispetto all'altro. Se il destro si ha una maggiore predisposizione alla logica ed alla razionalità. Se il sinistro ha la creatività e l'intuizione. Ricorda che, come ti ho spiegato all'inizio, per i mancini vale l'esatto contrario. Ora puoi divertirti a proporre il test ai tuoi amici e scoprire qualcosa di loro. Una predisposizione non è migliore di un'altra, sono semplicemente diverse ed andrebbero valorizzate e sviluppate al meglio per ricavarne i maggiori benefici. Adamas diventa come un diamante, brillante, prezioso ed invincibile.